Buongiorno FTI Online, avvio incerto questa mattina per la borsa, con il Fuzzimib in questo momento in parità rispetto alla chiusura di ieri, negli ultimi scambi ha oscillato tra il positivo e il negativo senza prendere una direzione precisa, il fatto che il mercato si mantenga sostanzialmente stabile dopo il forte rialzo di ieri potrebbe essere anche visto come un segnale di forza, infatti non si è prodotto per il momento una correzione, mantenendosi invece vicino ai massimi della seduta precedente, solo al di sopra tuttavia di area 17.42030 avrebbe confermata la situazione positiva con la possibilità di andare a ricoprire il gap ribassista del 10 giugno visibile sul grafico intraday in area 17.780, sotto i 17.230 punti invece il rischio di ricopertura del gap ribassista ieri con una base a 16.920 punti circa. Oggi ci concentriamo sul titolo Intesa San Paolo, proponendo anche un confronto con il risparmio, iniziamo a guardare le ordinarie, in rialzo questa mattina dell'1% circa, siamo a 2,12 Euro, è proseguita quindi la fase positiva che i prezzi hanno messo a segno dopo aver disegnato questo piccolo doppio minimo a partire dal 14 giugno in area 1,90, la figura rialzista è stata completata venerdì con il superamento del picco del 15 giugno a 1,98,90, quindi area 1,99 che diventa ora un supporto in caso di ripiegamenti, sicuramente la reazione è da considerare un fenomeno positivo, vediamo però che non c'è stata per adesso la rottura di nessuna resistenza rilevante, il lato alto del canale ribassista che parte dai massimi di marzo, infatti si colloca molto a di sopra dei prezzi attuali, a 2,27 Euro circa, quindi fino a che rimarremo a di sotto di quei livelli, ci sarà il rischio di dover considerare la fase di rimbalzo che ha recuperato circa i minimi di aprile e di maggio, posizionati per la precisione in area 2,15, senza però superare quella soglia, quindi 2,15 e 2,27, 2,26-27 sono i livelli di resistenza dalla scelta alle spalle per confermare l'avvio di una reazione in qualche modo capace di protrarsi nel tempo. In ogni caso il titolo prosegue nell'ambito di una fase negativa dai massimi dello scorso luglio e quindi per quanto un rimbalzo sia probabile e non solo possibile, c'è sempre da ricordare che prima di spezzare quella tendenza negativa saranno necessari sforzi notevoli, quindi per il momento va benissimo considerare la possibilità di strategia al rialzo, ma solo limitatamente al breve termine, in un'ottica temporale più estesa invece i rialzi andrebbero considerati come un'opportunità di realizzo di eventuali posizioni in essere. Se andiamo a guardare la variazione percentuale che il titolo ha messo a segno su un periodo di un anno, vediamo che rispetto all'anno fa in questo momento siamo in cauda del 38% circa e le quotazioni sono scese al di sotto dello 0%, le variazioni percentuali al di sotto del 0% già a partire da gennaio di quest'anno, quindi è già da gennaio che il titolo non riesce a fare meglio di quello che aveva fatto un anno prima, questa è la rappresentazione grafica della variazione percentuale a un anno, vediamo che dopo essere stata positiva per un lungo periodo di tempo, dall'aprile 2013 fino al gennaio di quest'anno, da inizio anno si è portata al ribasso. La situazione è leggermente migliore per le risparmio, guardiamo innanzitutto proprio lo stesso indicatore che stavamo osservando prima, il price rock è calcolato a 252 sedute, ovvero a un anno, in questo caso la variazione negativa del 34%, quindi il risparmio in termini percentuali hanno saputo fare leggermente meglio delle ordinarie, ma anche in questo caso si nota una tendenza ribassista di medio e lungo termine. Concentrando l'attenzione sulla forza relativa che lega il titolo risparmio e le ordinarie, vediamo che intesa San Paolo risparmio ha sovraperformato il titolo le ordinarie a partire dal luglio del 2015, questa situazione di sovraperformance tuttavia si sta in qualche modo indebolendo e proprio nelle ultime settimane c'è stata la violazione della linea di tendenza che conteneva tutta la fase rialzista precedente, quindi se fino a qualche settimana fa era assolutamente corretto scommettere sul risparmio piuttosto che sulle ordinarie, in questa fase i ruoli sembrano essersi invertiti e quindi l'attenzione sempre, come abbiamo detto, anche se limitatamente al breve termine può essere dedicata alle ordinarie, nel caso del risparmio se i prezzi riusciranno a salire in modo stabile al di sopra di questa resistenza minimi di febbraio e di aprile posizionata intorno ai 2,02-2,03, verrà in ogni caso inviato un segnale di forza incoraggiante che farà sperare in un proseguimento della fase correttiva di tutto il ribasso dell'ultimo anno circa, con obiettivi che potrebbero andare tra i 2,15 e i 2,35 Euro. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero, grazie.